Raggiungere, condivido quello che hanno detto i colleghi, raggiungere sanmarinesità che è una parola che spesso e volentieri viene usata in maniera sbagliata e l'ADC può rappresentare con questa scelta la prosecuzione e la concretezza di questa parola Se mi consentite un inciso, poi chiederò se ho neanche un'altra cosa per metterla nei guai però io ho notato una cosa che a volte non l'ho visto solo su San Marino l'ho visto anche in altri contesti, si tende a confondere l'identità con un mestiere uno è sanmarinese con l'identità, non è una professione Bisognerebbe, lo dico visto in tantissimi altri contesti quando l'identità diventa un mestiere diventa pericolosissima